Anche i pescaresi saranno chiamati alle urne domani per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. 17 le liste, 515 candidati Lizza per il Consiglio Comunale e 8 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Carlo Masci per il centro-destra che si presenta con 6 liste, la candidata del centro-sinistra Marinella Scrocco sostenuta da 3 liste. Carlo Costantini con 3 liste civiche, una lista ciascuno per Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle, Gianni Teodoro, Stefano Civitarese, Gianluca Baldini e Mirko Iacomelli. Per Casa Pounda, ma come si sta muovendo la macchina elettorale del Comune? Possiamo dire che la macchina organizzativa è pronta. A Pescara ci sono 170 sezioni più 4 sezioni speciali, di cui 2 presso l'ospedale civile, una presso la clinica Pierangelo e una presso la sede circondariale. Le 170 sezioni con i presidenti nominati dalla Corte d'Appello, oggi pomeriggio alle 4 i seggi possono aprire in maniera corretta. Quanti pescaresi andranno al voto? Sono chiamati alle urne? I pescaresi che hanno diritto al voto sono 103 mila, divisi 48 mila uomini e 55 mila donne. Come sempre le donne fanno la differenza? Ma è vero, in questo le donne sono più brave. Quante liste e quanti candidati, ricordiamolo? Abbiamo 17 liste, 8 candidati sindaci. Diciamo che si vota sia per le europee che per le comunali, almeno qui a Pescara, dalle 7 alle 23? Sì, le operazioni di voto inizieranno domenica alle ore 7 e si concluderà alle ore 23. Finite le operazioni di voto, inizierà lo spoglio per quanto riguarda le europee. concluse le operazioni delle europee, il seggio viene chiuso e riconsegnato alle forze dell'ordine per essere riaperte alle ore 14 di lunedì, quando inizierà lo spoglio per le amministrative. Comunque gli uffici comunali sono aperti per chiunque avesse qualche necessità, scheda elettorale e via dicendo? Assolutamente sì, tutti gli uffici sono pronti per collaborare con la cittadinanza, sia per la sostituzione di schede, chi l'ha smarrito oppure chi ha concluso, anzi l'invito è di controllare già nella giornata di oggi, in modo che chi avesse ultimato gli spazi per la temperatura delle schede possono recarsi presso gli uffici dell'ente.